Stavo pensando che questo fine settimana potremmo passare un po' di tempo insieme, che ne dici? Non mi canti in montagna, eh? Come ai vecchi tempi. Solo io e te, per allontanarci da tutto. Mamma, ma che cosa stai dicendo? In montagna, io e te, a girare per boschi, ma che senso ha? È una perdita di tempo, ma pensi che io non abbia nulla di meglio da fare? Dai! No, no, lo so che magari potrebbe non sembrare eccitante, ma insomma è per passare un po' di tempo insieme, per chiacchierare, per capirsi. Capirsi? Ma che cosa c'è da capire, mamma? Ah, ho capito. Tu vuoi fare la brava mammina? Ma guarda che io non sono più un bambino, dai! Io lo so che non sei più un bambino, sei più come prima, ma mi manca un pochino il nostro rapporto, ecco. Io, sei grande, non riesco più a comprenderti appieno, non riesco, non riesco a entrare nel tuo mondo, ecco. Vorrei che tu mi aiutassi a capirti meglio, a cominciare con te. Senti, io ho la mia vita, tu hai la tua, lasciamo le cose come stanno, ok? Va bene? Ma sai, non importa quanto sei cresciuto, sei che sarai sempre mio figlio, e io vorrò sempre il mio figlio. Forse un giorno vedrai questa mia richiesta non solo come una cosa per me, ma anche per te. Insomma, almeno lo spero, sì. Senti, mi stanno chiamando i miei amici e sono anche in ritardo. Magari ci vediamo stasera, eh? Salve, a volte è la parte più difficile dell'amare qualcuno, lasciarlo trovare la sua strada. Anche se questo riguarda lontanate. Sì, vabbè, ciao. Sì, vabbè, ciao. Sì, vabbè, ciao. Sì.